Nei giorni scorsi due velieri con a bordo 153 migranti sono stati soccorsi in mare dalla capitanere di Porto, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato, mentre si stavano dirigendo verso le coste calabresi. Le imbarcazioni a vela, entrambi provenienti dalla Turchia, trasportavano 94 migranti la prima e 59 la seconda e dopo oltre cinque giorni di viaggio in mare aperto sono state soccorse condotte nel porto di Roccella Ionica. Una volta giunti in porto sono scattate le indagini dei militari delle fiamme gialli della sezione operativa navale di Roccella Ionica e degli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Siderno per individuare i responsabili di questi due trasporti illeciti di esseri umani. I complessi accertamenti hanno consentito di individuare i tre presunti scafisti, due cittadini egiziani e un cittadino turco che sono stati arrestati per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina.